Saranno 15 giorni difficili per molti cittadini lombardi, due settimane in cui fare i conti con disagi e ritardi. La CGL regionale ha proclamato infatti lo sciopero degli straordinari di tutti i lavoratori di poste italiane, un risultato prevedibile visto che il braccio di ferro tra sindacato e azienda prosegue ormai da diversi mesi. Per la CGL il piano di riorganizzazione voluto da poste si è rivelato fallimentare sia per il settore della logistica che per quello della sportelleria. È solo grazie ad una gestione dei distacchi e degli straordinari fuori controllo e senza regole che l'azienda riesce a tenere aperti molti uffici, compresi quelli della provincia di Pavia, segnala con una nota al sindacato. Vista la mancanza di risposte concrete per far fronte alla carenza di personale, la procedura di conflitto aperta in Lombardia si è chiusa dunque con un esito negativo. Fino al 5 ottobre i lavoratori, sia i portalettere che gli impiegati degli uffici, potranno rifiutarsi di fare gli straordinari. Questo significa che la consegna della posta nelle zone penalizzate dalla riorganizzazione, come i piccoli centri e le frazioni, potrebbe non essere garantita. Non solo perché i dipendenti saranno liberi di chiudere gli sportelli al termine del loro orario di lavoro, anche in presenza di clienti in coda. Ci sono almeno 4.000 precari in azienda, spiegano dalla Cigelle, che chiede un processo di stabilizzazione dei contratti a termine a partire dalla conferma di quelli in scadenza e interventi immediati per sopperire alla carenza di organici nei centri di recapito e negli uffici postali. Il 9 ottobre è previsto un altro incontro tra aziende e sindacati se non ci sarà la tanta ospicata fumata bianca. Potrebbero scattare nuovi scioperi con nuovi inevitabili disagi per i cittadini.